Buonasera, benvenuti a tutti, è un piacere vedervi così numerosi a questo primo appuntamento della serie AI Talks, incontri e dibattiti e narrazioni sull'intelligenza artificiale. Questa è una serie di incontri, per il momento sono fissati due incontri, questo è quello del 4 dicembre se non ricordo male, in cui avremo degli esperti provenienti diciamo da varie discipline, tutto incentrato ovviamente attorno all'intelligenza artificiale che è da un punto di vista comunque divulgativo su questo tema. Prima di procedere con questa breve introduzione, poi introdurrò gli ospiti e i due esperti che appunto hanno il loro intervento questa sera, Angar Teatri che ci ospita e peraltro segnalo che c'è se volete un servizio di base, se volete gradire e sono pure gradite se volete delle offerte all'uscita e ringrazio l'Università degli Studi di Trieste che offre il patrocinio a questa iniziativa nell'ambito delle manifestazioni del centenario. Bene, allora perché questa breve serie di incontri, sostanzialmente l'organizzazione di questo evento è a cura dell'associazione AI2S che è un'associazione studentesca ma che accoglie anche altre persone che non sono ahimè più studenti, dico ahimè perché penso al mio caso, e ha lo scopo di rendere questa disciplina diciamo più alla portata del pubblico generale, in particolare a chiunque si è interessato in qualche maniera a apprendere qualcosa di più riguardo alle tematiche legate all'intelligenza artificiale, come funziona, quali sono gli ambiti di utilizzo, quali sono potenzialmente i rischi, quali sono i motivi per i quali è un tema interessante ed attuale. Al momento come vi dicevo abbiamo due appuntamenti in programma, uno è quello di oggi di cui parleremo tra un attimo più in profondità di quali sono gli interventi e uno di quello del 4 dicembre di cui vedete diciamo i titoli dei due interventi in basso. Come vi dicevo c'è il supporto da parte dell'Hangar Teatri che ringraziamo il patrocinio dell'Università di Trieste e vediamo quali sono quindi gli interventi di questa sera. Avremo due esperti, la professoressa Laura Nenzi che è ricercatrice Assistant Professor presso l'Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di Ingegneria e Architettura dove insegna Cyber Physical Systems, Information Retrieval e altre discipline tutte collegate in maniera più o meno profonda al tema dell'intelligenza artificiale, è una docente molto giovane e ha ricevuto il dottorato nel 2016 in Computer Science Systems. Il secondo esperto di questa sera è Andrea Gasparin, dottor Andrea Gasparin che è laureato in Data Science and Scientific Computing all'Università degli Studi di Trieste ed è attualmente dottorando presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura della stessa università. anche il dottor Gasparin si occupa di intelligenza artificiale però di una parte di intelligenza artificiale che si vede poco ma c'è ed è il fulcro di tantissime cose che è l'ottimizzazione. Bene, credo che possiamo partire invitando la prima esperta, non prima di vedere un'anteprima di quali saranno i due prossimi talk, Francesco Giacomari stesso che parleremo di complessità delle macchine, io e dell'intelligenza artificiale nell'ambito artistico come l'intelligenza artificiale diciamo l'artista dato dell'intelligenza artificiale utilizza e scolpisce il rumore. Invito quindi la professoressa Nenzi che non vedo, Annelco e la ringrazio. Buonasera a tutti, in questo talk io cercherò di darvi un'idea su che cos'è l'intelligenza artificiale in particolare in realtà parleremo di machine learning e sarei felice se alla fine di questa presentazione voi avete capito un po' cosa è l'intelligenza artificiale e in particolare cosa è il machine learning che appunto non è l'intelligenza, è una parte diciamo dell'intelligenza artificiale. Inizio con un aneddoto, quando Andrea mi ha chiesto di fare questo talk io ho detto di sì, come sempre i tempi sono molto stretti, mi ha chiesto un titolo, io mi ricordo ero là, in cui dovevo produrre questo titolo in brevissimo tempo e mi sono detta vabbè, perché non chiederlo all'intelligenza artificiale più famosa che c'è in questo momento? Ok, sapete cos'è chat GPT? Lo sapete? C'è qualcuno che non lo sa? Bene, bene, quindi la prima slide sarà inutile perché nel caso non lo sapeste gliel'ho chiesto, l'ho chiesto a lui, gli ho chiesto cosa sei? E lui mi ha detto sono un modello di linguaggio che serve per rispondere a domande, fornire informazioni e scrivere testi. È stato inventato da Open AI che è la più grande organizzazione di intelligenza artificiale. E quindi gli ho detto boh, proviamo a chiedergli a che titolo potrei dare una presentazione sull'intelligenza artificiale. E lui mi ha detto la prima ipotesi era cibernetica l'alba dell'intelligenza artificiale. Non mi è piaciuto molto, gli ho detto dammene un altro. Ring ha tenso il flow, l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Non mi è piaciuto, gliel'ho chiesto un altro, è andata avanti così per un po'. Poi gli ho detto in stile drammaturgico teatrale, e lui mi ha detto l'intelligenza artificiale, l'atto di nascita, l'ascesa, la rivoluzione del machine learning. No, dal prologo classico al dramma del machine learning. Il dramma, gli ho detto ma scusa ma perché il dramma del machine learning? E lui mi ha detto ah mi scuso per l'errore. A ragione dramma, potrebbe avere una connotazione negativa, ero concentrato sull'idea di creare un titolo con tono drammaturgico, ma ho scelto una parola inappropriata. Proviamo dal sipario e così ricomincia. Andiamo avanti per un po', a un certo punto mi stufo, ci penso un momento e dico ma che ne dici di ai 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 che mai sarai? E lui mi dice ah mi piace, è creativo, gioca con le parole e ha un tocco teatrale. Ai 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 che mai sarai? Suona come una domanda retorica che invita il pubblico a riflettere sull'evoluzione e sul futuro dell'intelligenza artificiale. Ottima scelta. Dico ah grazie. Però dico non sono ancora convinta quindi ci provo ancora un'ultima volta e gli dico dai ma allora ti viene in mente qualcos'altro di divertente. E queste sono le sue proposte. Ia, non solo un'idea ma una iadea. Ok? Machine learning, quando le macchine vanno a scuola. Dal byte al neurone, l'umorismo dell'intelligenza artificiale. Poi diciamo l'ultimo, roba reti e risate, l'ironia dietro l'ia. Niente alla fine ho scelto l'unico che mi era venuto in quel momento. Non è che mi piacesse tantissimo ma comunque non mi ha convinto, sono rimasta sull'idea mia. Ecco detto questo cominciamo. Cominciamo quindi con cercare di definire cos'è l'intelligenza artificiale. E partiamo da quando è stato coniato il termine che è nel 1955 da questo signore, John McCartney. E lui definisce l'intelligenza artificiale come la scienza e l'ingegneria volta la creazione di macchine intelligenti. vabbè, quindi siamo al punto di partenza perché macchine intelligenti non è che ci dice molto. Quindi adesso cerchiamo di pensare, cioè di vedere che tipi di intelligenza ci possono essere. Potremmo stare tutta la sera a parlare di che cos'è l'intelligenza. Io cercherò solo di farvi vedere le, diciamo, principali diverse idee che ci stanno dietro a quando si può dire, come si può dire, cosa si può dire quando una macchina è intelligente. Ci sono diverse aree di pensiero. Si può dire che una macchina è intelligente se è fedele a una prestazione umana. Oppure in realtà il fatto che la prestazione dell'umano sia la migliore intelligente possibile non è sempre vero. Quindi si può definire rispetto a un concetto di razionalità. Può essere definito rispetto al fatto che è un pensiero intelligente, cioè un processo interno del cervello, oppure è riferito a un comportamento esterno. Ora, la composizione diversa di prestazione umana, razionalità e di processo interno o azione porta a quattro diversi tipi di definizione di macchina intelligente. C'è la scienza che produce macchine che pensano come un umano, agiscono come un umano, pensano razionalmente o agiscono razionalmente. Quindi adesso andiamo a vedere ognuna di queste un po' più in dettaglio. La prima è pensare come un umano. Qui ci sta dentro tutta la scienza che studia proprio i processi biologici della mente umana, quindi tutte le neuroscienze, neuroscienze computazionali. In realtà alcuni concetti che ci sono dell'intelligenza artificiale come le reti neurali derivano proprio dallo studio dei processi biologici. Ok, però questo parla appunto solo del processo della mente umano, ma non parla di come poi agisce l'uomo. Quindi un'altra cosa è invece cercare di costruire delle macchine che agiscono come un uomo. Questa in realtà, cioè la definizione di una macchina intelligente che agisce come un uomo, in realtà è stata la prima definizione che c'è stata di macchina intelligente e è stata data da Turing. Turing che ha fatto un sacco di cose importanti in pochissimi anni, tra tutte quelle che ha fatto c'è anche questo, il famoso test di Turing. È un test in cui per definire se una macchina è intelligente, una persona umana può chattare o comunque scrivere e avere delle risposte da una macchina, cioè attraverso un computer, e se non riesce a distinguere se dall'altra parte c'è un umano o una macchina, allora quella macchina è considerata intelligente. Cioè è considerato che il suo comportamento corrisponde a un comportamento umano. Ok, quindi abbiamo visto i primi due tipi. Però se noi vogliamo costruire qualcosa che sia veramente intelligente e pensiamo al comportamento umano, pensiamo agli umani, in realtà l'uomo spesso sbaglia. Non è sempre razionale, nel senso i suoi ragionamenti non sono sempre matematicamente esatti. Quindi gli scienziati si sono resi conto che era più utile e funzionale concentrarsi sul processo razionale mentale rispetto semplicemente all'imitazione del comportamento umano. E quindi andiamo al terzo tipo di intelligenza, cioè il fatto di pensare in maniera razionale. Cosa significa pensare in maniera razionale? Significa usare schemi di deduzione che portano sempre a delle conclusioni corrette quando sono corrette le premesse. Quello che si dice quando si dice questa cosa è logica. Questi concetti arrivano da Aristotele, dai Greci e uno degli esempi più famosi è quello in cui si dice Socrate è un uomo, tutti gli uomini sono mortali e quindi Socrate è mortale. Questo è l'esempio più semplice di una deduzione logica. Sono stati costruiti un sacco di sistemi logici per costruire appunto un pensiero deduttivo. Però qua rimaniamo sempre sulla parte del pensiero, cioè anche se sono stati costruiti dei costrutti logici molto complessi, questi servono per spiegare delle cose, ma non aiutano ad avere un comportamento razionale. E qui arriviamo all'ultimo tipo di intelligenza, cioè il fatto di agire in maniera razionale, cioè la costruzione di macchine, di agenti che cercano di raggiungere un certo scopo nel miglior modo possibile, o meglio detto nel fare la cosa più giusta, la cosa giusta. Che cos'è la cosa giusta? Beh questo dipenderà dall'obiettivo fornito alla gente, cioè quello che deve fare. E questo secondo me è un po' un concetto chiave dell'intelligenza artificiale, cioè una macchina intelligente perché impara a fare uno specifico scopo il meglio possibile. Quindi è fortemente dipendente da quello che deve fare quella macchina. Non siamo ancora in grado a costruire macchine che possono essere intelligenti come l'uomo in vari punti diversi, ma quasi sempre la macchina è brava a fare uno specifico compito. E le prime macchine che sono state costruite come col principio di agire razionalmente, cioè avere uno scopo, si basavano comunque su tutti i concetti logici. Adesso nella slide dopo passeremo, beh possiamo farlo subito. Si basavano su concetti logici, ma questi comunque non permettevano di superare certi limiti. Quindi torniamo a fare un piccolo escursus della storia. Sto mettendo insieme due piani adesso, perché sto arrivando al concetto chiave secondo me per cui appunto sono cambiate le cose. Quindi torniamo a quando si è cominciato a costruire la scienza dell'intelligenza artificiale. Dopo la definizione c'è stata questa prima conferenza di Darmut che è considerata l'inizio dell'intelligenza artificiale, dove si sono riuniti i più grandi esponenti del campo di neuroscienze, di informatica e sono stati definiti dei concetti che sono usati ancora oggi. Ad esempio, le reti neurali, teoricamente, ma era molto difficile metterle in pratica, vedremo presto perché. Dopo questo c'è stato tutto il periodo in cui appunto si sono costruiti macchine che agivano in maniera razionale usando principalmente dei concetti logici. Però si è resi conto che usando solo questi non si riusciva a superare una certa complessità nello spiegare un mondo reale che era pieno di incertezza. E c'era un problema computazionale per cui i computer avevano una capacità di calcolo molto molto ridotta e quindi costruivano queste macchine gigante che comunque riuscivano a fare pochi calcoli. Quindi dei concetti importanti come le reti neurali, che sono un esempio di machine learning, di apprendimento automatico che c'erano qui, non potevano essere applicate. Poi le cose sono migliorate, sono aumentate le capacità di calcolo, sono aumentati i dati, finché si è arrivati al primo diciamo grande evento di successo dell'intelligenza artificiale che è nel 1997 quando il software Deep Blue sconfigge Skasparov a scacchi. E questo appunto è il primo esempio di successo dell'intelligenza artificiale. Quindi a questo punto comincia ad applicarsi anche il machine learning che aggiunge all'agente razionale, cioè l'agente razionale per raggiungere il suo scopo comincia ad avere la capacità di apprendere a partire dai dati in maniera automatica. Quindi a questo punto riusciamo a battere, riesciamo a battere, l'intelligenza artificiale riesce a battere Kasparov a scacchi. Allo stesso tempo però c'erano altri giochi come il Go, che in realtà è molto più complesso degli scacchi, in cui l'intelligenza artificiale era ancora a livello di un giocatore dilettante. Quindi eravamo ancora indietro rispetto a un certo tipo di intelligenza umana. Continua un processo di miglioramento di quantità di dati a disposizione, di tecniche di apprendimento automatico, di efficienza, di complessità, di calcolabilità. Finché nel 2016 si arriva a costruire un'intelligenza artificiale che riesce a battere il campione del mondo di Go. In quest'ultima parte, lo vedremo, spero, alla fine del nostro talk, si aggiunge un particolare tipo di machine learning, che è il reinforcement learning, che è l'apprendimento con rinforzo. Quindi a questo punto arriviamo poi ai giorni nostri, in cui si riesce a costruire appunto un software capace veramente di dialogare e esprimersi e offrire informazioni come mai prima. Cosa ha permesso appunto di arrivare, di avere questi ultimi anni una crescita esponenziale dell'uso dell'intelligenza artificiale, grazie a tre cose insieme. Il primo è appunto il machine learning, che è quello che vedremo per il resto del talk. Però il machine learning, diciamo, non era possibile applicare le tecniche di apprendimento automatico se non ci fosse stato anche un incredibile aumento della capacità di immagazzinazione di dati e una potenza di calcolo. Quindi queste tre cose insieme, quindi la potenza di calcolo, la grande quantità di dati e il machine learning, ha premesso una crescita esponenziale dell'uso del machine learning e della sua precisione. Queste ad esempio sono la diminuzione dell'errore nella classificazione di immagini dal 2011 al 2016. Ok, quindi adesso andremo a vedere cosa è il machine learning. Quindi il machine learning significa apprendimento automatico e è un tipo di intelligenza artificiale, una delle cose che un computer, una macchina può imitare rispetto all'uomo, apprendere. Avete domande? No? Ok. Quindi, cos'è il machine learning? La prima definizione la troviamo nel 1959 e dice che è la scienza che dà ai computer l'abilità di imparare senza essere esplicitamente programmati. Come sempre queste definizioni sembrano ripetersi in se stesse e non dire nulla. Quindi cerchiamo di vedere una definizione un po' più complessa. Si dice che un programma per computer apprende dall'esperienza E in relazione ad alcune classi di compiti F e dalla misura di prestazione P se le sue prestazioni nei compiti in F come misurate da P migliorano con l'esperienza E. Immagino che non abbiate capito niente. Bene, nei prossimi dieci minuti, un quarto d'ora, il mio compito è riuscire a farvi capire questa frase. Partiamo quindi da degli esempi di sistemi che non imparano da sole, quindi non sono esempi di machine learning. Qui vediamo un semplice termostato di casa, una semplice lavatrice, semplice dico perché adesso ci sono quelle smart, queste non sono smart, sono quelle classiche di una volta. E poi una cosa che non so quanti di voi possano riconoscere, lo riconoscete? È un lettore CD. Perché non imparano da soli questi? Perché sono semplicemente delle macchine che eseguono dei compiti, sono state programmate per eseguire dei compiti e questo è un termostro, quindi semplicemente prende la temperatura e ritorna il valore della temperatura. Poi può essere programmato per accendersi e spegnersi a seconda del valore della temperatura, poi questo fa. Il lettore CD, anche questo, prende dentro un CD e ritorna della musica. Input dico perché il CD sarebbe qua l'input. Questa è una lavatrice, quindi anche questa programmerò un certo programma, metterò dentro i vestiti e ti laverai i vestiti. Quindi questi sono tutti esempi di sistemi che sono stati programmati per fare uno specifico compito. Quindi prima del machine learning, cioè quello che non è apprendimento automatico, consisteva nel costruire una macchina che esegue un certo compito. Quindi avrò degli input, tornando qui, qui l'input sarà il valore della temperatura, qui l'input sarà il lettore CD, qui saranno i vestiti che metto dentro. E ci sarà un output, nel primo caso è controllare la temperatura, accendere e spegnere il termosifone, nel secondo caso è la musica che viene riprodotta, nel terzo è lavare i panni. Quindi avrò una serie di possibili input e una serie di possibili output. E quello che fa il programmatore è costruire il compito F. Bene, adesso facciamo un gioco. Io vi dico che 2 punto di domanda 2 fa 4. E adesso vi chiedo, cosa fa 5 punto di domanda 5? Dipende, cosa può essere? Io non vi vedo proprio comunque. Cioè voi non vedete me se vado via da qua, ma io non vedo voi. Ripetete forte? O 25 oppure, grazie. O 10. O 10, esatto. Quindi non si sa. Potrebbe essere delle cose diverse. Aggiungiamo altri dati. Quindi adesso vi dico che 5 punto di domanda 5 è uguale a 10, 3 punto di domanda 6 è uguale a 9, 1 punto di domanda 3 è uguale a 4. Adesso sapete dirmi cos'è 2 punto di domanda 6? 8. Bravissimi! E adesso vi faccio una seconda domanda più difficile. Che cos'è il punto di domanda? È un più. Il punto di domanda è la somma. Bene, avete appena imparato un compito solo dalle esperienze. Le esperienze che cos'erano? Erano gli input, cioè i valori a sinistra dell'uguale, 2, 5, 5, 5, 3, 6, 1, 3, e poi una serie di output, che erano i valori dopo l'uguale, 7, 10, 9, 4. Quello che avete incarrato voi è la somma. La somma era esattamente il compito. Quello che fa una macchina che apprende in maniera automatica è questo. Ha una serie di dati, che sono degli input e degli output, e a seconda di questi impara il compito che dati quegli input mi genera quell'output. Quindi ho una serie di input, ho una serie di output, studiando quali sono questi input e questi output, cerco di costruire qual è la migliore f possibile che mi genera quegli output. Chiaro? Più o meno? Più o meno. Però c'è ancora una domanda. Come faccio a sapere che ho imparato una f che è buona? Io, supposto però, dovrò trovare un modo per vedere che quella f che ho imparato è una buona. Beh, quello che si fa di solito è dividere i miei dati. Prendo una parte, che sarà il mio training set, cioè l'insieme dei dati che uso per imparare la mia f. E poi mi lascio a parte un insieme di dati che sarà il mio test. I primi mi servono per imparare il compito e gli altri mi servono per controllare che il compito che ho imparato è quello giusto, cioè controllare la prestazione del mio compito, cioè la prestazione di quello che ho imparato. Ok, quindi adesso mettiamo insieme tutto quello che abbiamo appena detto. Ci proviamo. Quindi, si dice che un programma per computer apprende dall'esperienza E, l'insieme dei miei dati, in relazione al compito F, cioè quello che io sto imparando, e alla misura di prestazione P, cioè la misura che faccio alla fine per vedere se ho imparato una cosa giusta o no. Se le sue prestazioni in F, misurandole con questo P, è un programma che ha imparato, se migliorano con l'esperienza E. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se io aumento la quantità di dati che sto dando al mio sistema, imparo di più, imparo meglio, diminuisco l'errore del mio sistema. Ok? Bene. Se avete capito questo, sono quasi a posto. Ok, ultima cosa sull'argomento, una precisazione. Ho parlato di compito o di funzione. In realtà, quello che impara il computer è un algoritmo. Cos'è un algoritmo? È semplicemente una sequenza di istruzioni che definisce in modo non ambiguo le operazioni da eseguire e che conduce ad un ben determinato risultato in un tempo finito. Cioè, quello che fa il computer alla fine è un programma che è una sequenza di istruzioni, un algoritmo, e che deve essere non ambiguo perché in realtà il computer è stupido. Quindi bisogna essere molto chiari nella descrizione delle istruzioni che il computer deve fare. Ok, bene. Questa è un'idea di che cos'è il machine learning, l'apprendimento automatico. Questo è l'ambito generale di tutti i diversi learning che ci sono. Io ho un po' barato perché l'esempio che vi ho fatto con i dati di input ed output sono apprendimento supervisionato, ma voi prendetelo come apprendimento automatico. E nell'ultimo tempo che mi rimane, vi volevo dare un po' di idee di diversi tipi di apprendimenti che ci sono, come viene usato poi. È l'uso del machine learning per fare delle previsioni. Cioè, quindi, in questo caso, facciamo un semplice esempio sulla previsione dell'andamento di un'epidemia. Cosa abbiamo? Abbiamo una serie di dati, ad esempio nel tempo, e quello che fa il machine learning è usare tutta questa serie di dati per predire qual è il comportamento futuro del mio sistema. Cioè, per predire come continuerà la curva nel tempo del mio sistema. Poi, passiamo subito ad un altro esempio. Il machine learning può essere usato anche per fare classificazione. Quindi, in questo caso, ho dei dati che sono etichettati. Cioè, sto dicendo che tipo di dati sono. E do molti dati al mio computer e lui, alla fine, riesce a distinguere le etichette per nuovi dati. Facciamo un esempio con un altro gioco. Quindi qua abbiamo due tipi diversi di dati etichettati. Questo è un gecko satanico dalla coda a foglia. E questo è una foglia. Quindi al computer diamo un sacco di dati, di immagini di foglie, immagini di gecko satanici dalla coda a foglia, e poi lui deve riconoscere nuove immagini e capire se sono una cosa o l'altra. Adesso lo faccio con voi. Questo che cos'è? Un gecko satanico. Questo? Anche questo. Questa? Una foglia. E questo? È una farfalla. Bene, siete appena riusciti a fare una cosa che il computer ha molta difficoltà a fare. Cioè, avete dato un'etichetta a questa immagine diversa dalle due etichette a cui avevamo dato il computer. Quello che avrebbe fatto una macchina di base, di classificazione, avrebbe comunque classificato questo come gecko o come foglia. Infatti, in realtà, per un sacco di tempo, se avete presente, questi sono tutti esempi che sono usati dai computer per riconoscere che voi non siete dei robot. Perché il riconoscimento di immagini è comunque una delle cose più difficili da fare per il computer. Non uscendo dalla classificazione normale di cose già etichettate, diciamo. E niente, questo è uno degli esempi classici di dove è applicata il riconoscimento di immagini, per esempio per la guida autonoma. Un altro ambito dove viene applicato il machine learning è appunto il fatto di clasterizzare i dati. Cosa vuol dire clasterizzare i dati? Vuol dire prendere dei dati che non sono etichettati. Adesso non vi sto dicendo questo è un gatto, questo è un cane. Vi sto usando solo delle immagini tutti insieme e vi chiedo, dividetemi le in gruppi. Ora, se ve lo chiedo a voi, cosa fareste? E quali sono? Cioè, quali metteresti insieme di queste immagini? Quella là sopra, questa immagine qui con questa e questa immagine con questa. Questa è la clasterizzazione. La clasterizzazione è dare dei dati senza etichette e poi il computer da solo deve riuscire a dividerlo in gruppi. Dove è applicata la clasterizzazione? In realtà è applicata in praticamente qualsiasi cosa che voi usiate che abbia una relazione, diciamo, come utente pagante o con dei servizi. Qui abbiamo un esempio della clasterizzazione di Facebook. Cioè, in Facebook voi in realtà, come utente, siete clasterizzati in sottogruppi. E a seconda del sottogruppo in cui voi siete stati messi, vi arriveranno pubblicità diverse, notizie diverse, post diversi. Similmente c'è una cosa del genere, per esempio, sulle preferenze di Netflix. Voi quando usate Netflix sarete inseriti in dei claster diversi e poi a seconda di quello vi saranno proposti diversi tipi di film. Questa immagine, tra l'altro, è qui ancora dal talk che ho fatto sul machine learning dell'anno scorso. L'ho lasciata perché parla del conflitto in Palestina e parla di un problema molto grosso che c'è sull'informazione. Cioè, la polarizzazione dell'informazione. Quando voi seguite certi giornali, siete inseriti in questo modo in un certo tipo di cluster e sarete portati a ricevere sempre più informazioni relative al vostro tipo di cluster. Quindi sarete portati a leggere giornali che sono sempre più simili a un certo pensiero che avete già. Questo porta al fatto che c'è sempre meno, diciamo, sempre più estremismo nelle idee delle persone perché sono portate a non vedere più, diciamo, la parte opposta, ma avere informazioni sempre più simili a quelle che già hanno avuto precedentemente. Scusate, è un po' veloce, ma se poi volete domande torniamo in dettaglio su queste perché volevo arrivare all'ultima cosa da dirvi, è stato molto intenso, e è l'apprendimento con Reinforce. Come vi ho detto prima, l'ultima grande cosa che c'è stata di passaggio è stato quando il campione del mondo di Go è stato abbottuto dall'intelligenza artificiale ed è stato abbattuto grazie, appunto, all'uso di apprendimento con Reinforce, Reinforcement Learning. Che cos'è il Reinforcement Learning? Beh, il fatto di riuscire a imparare, cioè in questo caso la macchina riesce a imparare non utilizzando dei dati esterni, ma provando più volte da solo un certo compito. In questo modo, provando più volte, sbaglia, riprova, sbaglia e impara cos'è la cosa migliore. Come funziona? Quindi abbiamo il nostro agente, fa una certa azione, l'azione avrà una certa conseguenza nell'ambiente e a seconda se l'azione è stata buona o no, lui avrà una certa ricompensa e cambierà il suo stato. Questo verrà fatto più volte finché l'agente imparerà qual è la cosa migliore che può fare. Facciamo un semplice esempio. Qui abbiamo un topino che cerca di massimizzare le ricompense imparando attraverso prove ed errori. Quindi questo topino deve riuscire a mangiare questo formaggio, può prendere l'acqua ma deve evitare questi fulmini. Bene, lui proverà più volte e man mano che proverà imparerà qual è la strada migliore da fare per mangiare in formaggio senza toccare i fulmini. Quindi è un modo per imparare solo per esempi e per errori. E qui abbiamo un esempio di un drone, si può vedere all'interazione 0 sbaglia sempre, ma man mano che aumentano le interazioni impara a rimanere in equilibrio in un certo punto in mezzo allo spazio. Ok, ultima cosa che volevo dirvi dopo aver tessuto un po' di lodi dell'intelligenza artificiale, un'accortezza sull'uso che se ne può fare adesso, in particolare su chat GPT. Bisogna sempre ricordarsi che l'intelligenza artificiale per la maggior parte delle cose dipende da come sono i dati. Quindi dipende dai dati e dipende anche da come sono i dati. Quindi ci sono vari studi e casi in cui se i dati non sono costruiti, sono dati in maniera buona, si rischia di avere dei risultati che non sono etici o non sono il risultato che si vorrebbe per un sistema equo. E' un modello non esatto, quindi rispetto a costruire una cosa logica in cui il risultato si sa che è il risultato esatto, la maggior parte dei modelli del machine learning hanno degli errori che spesso non riusciamo neanche a capire. Quindi bisogna prendere sempre con molta attenzione i risultati che si hanno. E poi c'è una cosa che secondo me manca ancora all'intelligenza artificiale è l'intuito umano e la capacità di avere una visione di tutti i tipi di intelligenza insieme abbiamo, per cui un bambino una volta che vede un cane o un gatto basta che ne veda uno e poi saprà che uno è un cane e uno è un gatto. Per finire quindi vi porto un paio di esempi di CiaGPT in cui le cose non funzionano tanto bene. Uno è sulla capacità di identificare i numeri primi e si è visto in questo studio che a marzo aveva un'accuratezza dell'84%, e nel giugno del 2023 l'accuratezza era scesa al 51%. Un altro esempio è che su questo articolo hanno chiesto a dei medici di fare delle domande a CiaGPT e qui abbiamo un esempio su, è stato chiesto ad esempio la displasia mandibulocrale, loacrale, e CiaGPT ha risposto in modo corretto alla definizione clinica della malattia, ma ha sbagliato nel definire la mutazione genetica che la determinava. Anch'io sono umana. Quindi se fate delle domande a CiaGPT ricordatevi che non è sempre la risposta esatta. Finisco con questo punto che mi sembra un po' dare, sembra spesso però comunque esatta, perché CiaGPT è molto bravo a fare questo, cioè la sensazione è quella di stare ascoltando uno studente che si è presentato all'esame senza aver aperto il libro e che spera di cogliere in un momento di stanchezza e distrazione il professore ripetendo frasi che sembrano matematica ma che non vogliono dire nulla. Bene, questa sensazione è esattamente quella corretta. E finisco, tornando diciamo da CiaGPT, gli ho detto vabbè allora fammi una poesia finale, parlare di quello che vi ho appena detto. E lui dice CiaGPT, tra dati intreccia, spesso erra, ma impreccia, sua natura imperfetta, dell'uomo la mente rispetta, usiamolo con coscienza, guida sia, non dipendenza, nel binario dell'ai saggezza, per nagvidar l'onda con destrezza. E vorrei farvi notare che ha scritto questa parola, gli ho detto, ma scusa, ma cosa vuol dire impreccia? E lui mi ha detto, ah imprecciare non è un termine riconosciuto nella lingua italiana, potrebbe essere stato un errore di battitura, un tentativo di creare una parola nuova per mantenere la rima nella poesia, nel contesto della poesia che ho scritto, ma impreccia, sembra voler indicare malmaledice o ma invoca sventura cercando di mantenere la rima con la parola precedente, tuttavia se cerchi una parola che esiste realmente nel vocabolario italiano e che si adatta al contesto, potremmo usare peccia che deriva da peccare, ovvero commettere errori o peccati. Ho finito. Grazie. Grazie Laura. Abbiamo più di qualche minuto, in realtà, dopo abbiamo un altro intervento, quindi qualche minuto, ma non dilunghiamoci troppissimo, per tutte le domande che volete fare alla professoressa Nenti. Non siate timidi. Quando nessuno fa domande vuol dire che si è stati chiarissimi, oppure che non si è capito niente. Ci sono domande? Prego. Allora, da quello che ho visto, praticamente CiaGPT continua ad avere nuovi dati, no? Continua ad avere nuovi dati che arrivano, quindi a seconda dei dati che arrivano, cambia i suoi algoritmi e cambia il risultato che ha. Quindi deriva dai tipi che arrivano a CiaGPT, direi. Non c'è uno studio, diciamo, preciso su perché, non si sa perché c'è una variabilità del genere. Se posso aggiungere un commento su questo. Allora, sempre più spesso compaiono lavori scientifici in cui viene valutata la capacità di CiaGPT o dei Large Language Models di rispondere ad alcune domande, di risolvere alcuni compiti. Il problema è che questi modelli linguistici sono spesso stati addestrati, soprattutto e molto sugli articoli scientifici, che contengono la descrizione di quei compiti e di come risolverli. Quindi, diciamo, è come fare un esame a uno studente per rimanere un libro aperto davanti. Diciamo che non è proprio un modo, sì, può essere un modo per verificare se uno sa leggere, se è presente fisicamente, ma non è proprio il modo per sapere se è studiato. Altre domande? Hai parlato di machine learning, ha aumentato, ha aiutato. Quando hai detto, corri in forza. Cos'è la ricompensa? Cosa usi? Allora, la ricompensa in realtà funziona, c'è una funzione di reward che la gente cerca di massimizzare. Quindi man mano che impara, lui cerca di massimizzare questa funzione. Nell'esempio che avevamo qui, il reward... Il reward può essere direttamente il valore che hai, ad esempio, se raggiunge il formaggio, ha 100 punti di reward. Se raggiunge l'acqua, 50 punti di reward. Se raggiunge il fulmine, ha meno 100. Quindi il topino fa la sua strada, arriva alla fine e il valore di ricompensa finale è la somma di queste cose che ha toccato. Quindi se riesce ad arrivare qui, ha una ricompensa di 1000, più o meno 50, 100 a seconda dei punti dove è passato. Qui mi permetto di aggiungere il tema di trovare il modo in cui premiare la gente, cioè l'essere spesso solo simulato che ha la capacità di effettuare delle azioni. E effettivamente è una scelta molto difficile, cioè come formulare quel premio. Deve essere un numero, deve essere un numero dato ogni quante azioni, spesso o meno spesso. E effettivamente chi formula i reward, cosa che si chiama reward shaping, formazione dei reward, deve avere una chiara visione di qual è il compito da risolvere. E non è detto che ci sia sempre una chiara visione del compito che si vuole risolvere. Peraltro quando si mette, spesso noi quando facciamo ricerca, in pratica ci capita di trovare una soluzione da parte del deep learning, del machine learning, del reinforcement learning, che è molto banale, non è quella che ci aspettavamo, è molto sorprendente, spesso in negativo, perché il modo in cui abbiamo descritto reward non è realmente capace di catturare quello che noi volevamo fosse la soluzione. Però non se ne esce, cioè è un po' come il problema di come educare un bambino. Se io ho l'educazione perfetta, ha un po' di fortuna, viene fuori il bambino perfetto. Se sbaglio a educare, viene fuori un bambino maleducato. Altre domande? No, aggiungo su questo che secondo me anche perché alla fine tutto si riduce nel massimizzare una funzione. E quindi il problema così complesso diventa la massimizzazione di una funzione che è un po' riduttivo rispetto... Che poi è il tema del prossimo talk? No. Ha detto di no. Avete altre domande? La mia domanda era sulla programmazione dell'intelligenza artificiale che a me sembra che certe volte certi errori siano stati proprio... l'intelligenza artificiale si è stata programmata anche per commettere errori, cioè in modo da non spaventarci ad esempio nella previsione di tutte quante le nostre scelte. Mi prendo la responsabilità di dire di no, poi non so se Eric vuole dire qualcosa di diverso, ma io direi in generale no. Cioè sbaglia perché è derivato dai dati e ci sono comunque un'approssimazione. Quindi non credo che lo faccia per farci sentire più sicuri. Non lo so, secondo me no. Perché comunque non si comporta come un umano, ad esempio secondo me può sbagliare facilmente su delle cose logiche che magari un umano non sbaglierebbe, ma essere molto molto più veloce e efficiente di un umano nel dare risposte su altri concetti. Quindi secondo me fa meglio certi compiti e peggio altri compiti. Quindi secondo me no. Basta. Io non penso di risolvere nessun problema mondiale con quello che faccio io di machine learning. Il prossimo passo. Dici explainable. Secondo me stiamo continuando a cercare di essere sempre più efficienti già in quello che stiamo facendo, costruire quindi delle macchine ad esempio a guida autonoma che possano funzionare nel mondo reale. Quindi avere a che fare con l'incertezza, cioè riuscire ad usarle nel mondo reale e avendo una sicurezza nel poterle usare. Quindi ci sono tutti i cosiddetti safety critical system, cioè i sistemi per cui adesso l'intelligenza artificiale viene usata relativamente perché se non funziona si rischia la vita. Quindi forse in quell'ambito direi che è uno degli ambiti più challenging, più una sfida, che sono ancora una sfida, secondo me. Va, vai. Vai. Beh, sicuramente ci sono già intelligenze artificiali che svolgono i compiti umani, già adesso, secondo me. completamente spero di no, cioè spero ci sia comunque un controllo umano su molte cose, ma già adesso, non so, ad esempio, non so, una volta c'era un lavoro che era l'agenzia di viaggi, adesso vai in internet e ti trovi il tuo viaggio da solo e sono tutte cose automatiche. ci sono dei robot che fanno delle operazioni, per dire, per dire, mio papà ha operato un robot, quindi ci sono, cioè ce ne sono già altri esempi, sì esatto, l'assistenza clienti, o Google Maps, per esempio, per cercare dove andare una volta, no, non so se c'era una persona che lo faceva, però sicuramente ci sono molti lavori che, per cui magari servirà una persona sola in l'intera azienda, non so, ci saranno delle macchine che faranno tutta una serie di operazioni che prima erano fatte da persone umane, sperando, cioè comunque avendo magari una persona che controlla, quindi, sì, c'era un'altra... no, cioè, in realtà, in realtà il reward finale è uno, non sono tre. il reward finale qui è la somma che il topino ha di tutti i reward che aveva fino ad arrivare alla fine, quindi è la somma di cose diverse, dipende dal problema che c'è. non so, nel senso qua dire togliamo l'acqua e il fulmine mettiamo solo il formaggio finale, beh sì, sicuramente è più veloce, ma è un problema molto più semplice, cioè togli tutta la complessità di dire... dipende dal problema, no, cioè il fatto di avere tre cose diverse è perché vogliamo avere... abbiamo un problema in cui il topino deve evitare degli ostacoli e può passare della parte in cui, diciamo, è facilitato avere... non so, si rifocilla, diciamo, quindi questa è una... questa sono la rappresentazione del problema. quindi non è che se tolgo un pezzo della rappresentazione del mio problema ho una soluzione migliore perché sto cambiando il mio problema. non so se mi sono spiegato. non so se mi sono spiegato. più la risposta sarà più cisa e sarà difficile per il programma. meno abbiamo, più sarà facile trovare una soluzione per il programma, ma la soluzione sarà più lontana rispetto alla soluzione del problema che vogliamo risolvere. se posso aggiungere un piccolo e breve punto di vista, effettivamente, come si diceva prima, la scelta di tre obiettivi, diciamo, intermedi che dovrebbe raggiungere il topino e come premiare o punire il topino rappresentano una nostra... il nostro desiderio rispetto a cosa dovrebbe fare il topino. supponiamo di voler costruire con reinforcement learning un'intelligenza artificiale che guida l'automobile. in teoria per ogni possibile accadimento che può avvenire in strada io dovrei dare un punteggio positivo o negativo. ho urtato una signora anziana sulle strisce, meno 100, sono partito per primo al semaforo, più 20 e cose del genere. chiaramente potrei dire, ma no, a me non interessa nulla di questo, io voglio arrivare prima possibile alla meta più 1000 e null'altro. poi, però, chiaramente questo, sto descrivendo un task diverso da quello in cui ho, diciamo, punito l'avere urtato la signora anziana, quindi se costruisco un'intelligenza artificiale che urta continuamente le signore anziane, non è colpa dell'intelligenza artificiale così costruita. ci sono degli studi riguardo a come si sceglie il modo di premiare o punire l'intelligenza artificiale. un aspetto interessante è che più si è specifici nello specificare le cose da punire o premiare e più si sta sostanzialmente imponendo la propria idea di come il problema andrebbe risolto. che però forse c'è un bias, c'è un pregiudizio nel fatto che questa idea sia quella giusta. se io però so già come un task va risolto, in realtà non avrei nemmeno bisogno dell'intelligenza artificiale, perché ho già in mente cosa voglio fare. di solito la usiamo nei casi in cui non sappiamo come risolvere il task, oppure è un, diciamo, compito che l'intelligenza umana, diciamo, per l'intelligenza umana richiede più energia, più sforzo, più tempo, che rende, diciamo, l'uso dell'intelligenza umana e dell'essere umano meno dignitoso e quindi si mette una macchina, anche se so che un umano lo potrebbe risolvere meglio. però, di fatto, più è preciso, da più è precisa la descrizione del task, più è probabile che la soluzione si avvicini a quello che la descrizione del task vuole. ma non è detto che in realtà io voglia quello. se qui l'obiettivo era, cioè qua si capisce che in questo semplice esempio è importante mangiare il formaggio, molto importante, diciamo 20 volte più importante che bere l'acqua, e moderatamente è negativo prendere la scossa. questa è una descrizione in linguaggio naturale più o meno vaga di quello che questo reward rappresenta. però vuol dire che abbiamo già in mente qualcosa e abbiamo qualcosa di abbastanza preciso, una relazione tra l'importanza di questi obiettivi intermedi. non è sempre così, per esempio il caso della guida, se ci mettiamo a discutere quanti punti vale la vecchia, quanti punti vale il verde, non ne usciamo facilmente. infatti è uno degli esempi tipici dell'etica dell'intelligenza artificiale. altre domande? allora io direi, ringrazierei ancora la professoressa Nenzi. grazie a tutti. Grazie.